Basta! Basta! Io ne ho abbastanza! Dei morti, dei vivi, di noi tutti! È finito! È finito tutto! Ti darò tutto quello che vuoi! Che fai? Sei geloso di lei adesso? La vendetta di Lady Morgan Un film nuovo, eccezionale, imprevedibile Amori romantici e torbide passioni Ordiscono la trama di un racconto sempre in bilico Tra la realtà e il mondo fantastico dell'Oltretonda La vendetta di Lady Morgan Un film inconsueto Una finestra spalancata violentemente sul mondo dell'irreale Con lui mi tradisci! Un ritmo incalzante di colpi di scena Di sadica violenza e di allucinante terrore Rivido, suspense, soluzioni imprevedibili In un clima di angoscia a cui solo la violenza sa ribellare Oh, G.Pierre, sei qua! Personaggi assetati di vita Che soltanto il sangue riesce a calmare E l'amore ad esaltare La vendetta di Lady Morgan Una vendetta fantastica e irreale Crudele e raffinata La vendetta di Lady Morgan Magistralmente interpretato da uno stuolo di ottimi addoni Stammi a sentire Siamo pari adesso Tu sei un assassino esattamente come me e come gli altri La vendetta di Lady Morgan Un film che vi consigliamo di vedere dall'inizio Presentato dalla Indie Un film che vi consigliere Un film che vi consiglio di rinco 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 Un film che vi consiglio di rinco